Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Benvenuti su Rainbow Six Siege in questo video anteprima esclusivo in cui posso finalmente parlarvi di Operazione Parabellum, la seconda operazione di questo terzo anno di Rainbow Six Siege e che vedrà l'introduzione di due operatori italiani con un'annessa mappa ambientata anch'essa in Italia. Giusto per darvi una panoramica generale, questo è un video anteprima esclusivo e il gameplay che vedrete a video sarà anch'esso esclusivo. Nei giorni passati ho preso parte a un evento di Rainbow Six Siege in veste di redatore per Eurogamer, infatti proprio adesso sul sito eurogamer.it naturalmente troverete il mio pezzo a riguardo e ho avuto la possibilità di parlarne anche qui sul canale. A tutti gli effetti questa nuova operazione non ha ancora una data effettiva quindi non so dirvi quando potremo giocarla. Per il momento quindi questo gameplay e queste informazioni è tutto ciò che si può trovare in rete. Detto questo non perdiamoci in ulteriori chiacchiere. Nei prossimi minuti ho intenzione di parlarvi di Alibi o Alibi come la chiamano nella versione inglese ma operazione italiana, operatore italiano, operatrice italiana se ne vogliamo proprio rispettare anche il genere quindi noi la chiameremo semplicemente Alibi. Uno dei due difensori che verrà introdotto proprio con Parabellum. Maestro lo vedremo in un altro video, come vedremo anche in un altro video, un pochino più nel dettaglio, una delle mappe che verrà modificata e le regole di gioco come verranno gestite. Tutto in futuro, ho intenzione di caricare più video anteprima per concentrarmi su tematiche differenti. Parliamo di Alibi, un operatore da 1 di corazza e 3 di velocità quindi un Romer, appunto un difensore e naturalmente nel suo arsenale non potranno mancare le granate d'impatto da alternare allo scudo mobile, un po' come la dotazione di Ela al lancio. Conto alle armi primarie invece troviamo un fucile a pompa automatico, la CS12, che dovrebbe assomigliare molto a un Usas se non mi sto confondendo e avrà un caricatore a tamburo, per l'appunto sarà un fucile automatico. Perfetto non soltanto per uccidere rapidamente gli avversari ma anche per rompere eventuali muri o creare aperture nella fase di preparazione. Ho una mitraglietta 9mm, una MX-4 Storm, di cui non ricordo il nome nella versione reale e devo dire un'arma davvero molto simpatica da utilizzare, mi ci sono trovato bene negli unici round in cui ho potuto utilizzarla. Come armi secondarie invece due pistole, entrambe revolver e devo ammettere di non essere un grande fan di queste armi, motivo per cui ho praticamente evitato di utilizzarle. Mi sono concentrato quasi esclusivamente sulle MX-4. Approfondiamo però il gadget che è ciò che effettivamente ci interessa. Si chiamerà Prisma, ne avrà tre per round e questi dispositivi una volta lanciati genereranno sopra di essi un ologramma con le sembianze di alibi. Potrà essere generato soltanto dove ce ne sarà effettivamente lo spazio, se lanciamo il dispositivo troppo vicino al muro naturalmente non si creerà compenetrando appunto le pareti e avrà esattamente le sembianze di alibi. Mettendo l'operatore a fianco non otterremo distinzione, non avrà nessun tratto che lo identificherà come ologramma. E il suo punto di forza è proprio questo, quando un attaccante lo vedrà quasi automaticamente gli sparerà, sia perché non è abituato a vedere un ologramma di uno degli operatori difensori, sia perché vedendo una sagoma viene spontaneo da sparare. E quando ciò avverrà l'ologramma sfarfallerà, quindi rivelerà la sua vera natura e i difensori vedranno un ping rosso sulla mappa che indicherà la presenza dell'attaccante, come se fosse stato spottato da una camera o da un qualsiasi drone. E per il momento ho già notato un paio di utili applicazioni per questa tipologia di gadget. Innanzitutto distrarre nemici. Come ho detto, non si è abituati a vedere più giocatore di quelli che effettivamente ce ne sono. Il vedere più sagome dietro l'angolo, negli angoli o in posti nascosti potrebbe far spaventare un attaccante e potrebbe distrarlo. In secondo luogo, quando qualcuno inevitabilmente colpirà queste sagome e questi ologrammi, tutto il team in difesa capirà più o meno da dove stanno attaccando e potrà dunque organizzarsi di conseguenza. Avendo inoltre la possibilità di raccogliere e riutilizzare a nostro piacimento questi gadget, nel caso si voglia romare per tutta la partita, spostarli potrebbe creare ancora più confusione nella testa degli avversari, ricordandosi magari un ologramma in un punto, spostarlo e coglierli nuovamente impreparati. Le applicazioni insomma sono molteplici. Personalmente non vedo l'ora di vedere questo operatore effettivamente in gioco per vedere quanto a lungo andare si rivelerà utile e quanto i giocatori sapranno effettivamente sfruttarlo. Di opportunità ce ne sono, ma come ho detto, staremo a vedere. Dunque ragazzi per quanto riguarda questo primo video anteprima dedicato ad Alibi è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che nei prossimi giorni e nella prossima settimana seguiranno altri video anteprima. Per il momento vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!